Diciamo una cosa, la diciamo sottovoce, dai sottovoce. Se ieri sera giocava Lazio-Inter e succedeva sto casino, sapete cosa dicevate voi oggi? Che il calcio era morto. Che il calcio era morto. Ma visto che non è l'Inter, ma c'è il Milan, gli arbitri sono scarsi, è colpa dell'Aia. Prima di iniziare il video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, attivate la campanella e condividete il video. Pensavate, milanisti, che facessi un video per sfottervi e dirvi che siete dei ladroni. Ma non è proprio così. Non è proprio così. Io ho fatto una premessa. Se succedeva l'Inter, oggi c'era il caos totale. Andiamo avanti. Laziali, se pensate che qualcuno vi ha rubato la partita, siete dei folli. Ma perché siete dei folli? Perché avete fatto tutto voi. Avete fatto tutto voi. Avevate la partita in pugno e ve la siete lasciata scappare. Perché? Perché avete un giocatore acquistato dalla Juventus insieme all'altro cadavere, che è Rovella, che gli avete regalato anche 25-30 milioni, che non può giocare a calcio. Perché è uno che fa un errore del genere in Serie A. È da mandare a giocare negli amatori. Perché neanche negli amatori fanno ste robe qui. Perché lo sanno tutti che finché l'arbitro non fischia la palla in gioco, si deve giocare a calcio. E poi altra cosa. Coglionazzo che non sei alto, Pellegrini. Che senso ha fare un post come che dici che c'era Castennanos là, che c'era il labbro rotto, sanguinante, te, non hanno buttato fuori la palla. La palla ce l'avevi te, Somaro. Brutto, Somaro. Ce l'avevi te, la palla. Quindi, coglione, la prima volta che non l'hai buttata via e, coglione, la seconda volta che hai fatto fallo, già ammunito, pirla, pirla. Quindi, Lastiali, dire che il milanista vi ha rubato la partita è una cazzata. Che poi sia stato antisportivo il gesto di Pulisic di continuare. Questo è un altro discorso. Ma sul campo non ve l'ha rubata. Il Milan meritava di perdere perché ha fatto cagare. Però, anche domenica, a Bergamo, hanno meritato di vincere e hanno pareggiato. Quindi, vedete che, alla fine, i conti tornano sempre. Ma i conti li fate tornare sempre quando parlate di tutte le altre squadre tranne che dell'Inter. Ed è quella la cosa che adesso mi dà fastidio. Mi dà fastidio che questi episodi qui, se c'era l'Inter dentro, veniva detto che c'era la marotta lì, che il campionato era falsato, che questo, che di quello, che di l'altro. E lo sapete. Visto che è successo in Milan-Lazio, cosa viene detto? Ah, ma gli arbitri sono scarsi. È colpa dell'Aia. È colpa di Di Bello. Che Di Bello? Tu Di Bello, di Di Bello. Non hai niente. Tu Di Bello non hai niente di Bello. Tu devi andare a allenare negli amatori. Comunque, quello che volevo dire io è che quando succede alle altre squadre, sono scarsi gli arbitri. Laia, Rocchi e Di Bello. Quando succede con l'Inter, è colpa della marotta lì, hanno falsato il campionato, sono dei ladri, hanno comprato le partite, l'aiutino e il rigorino. Ho sbaglio. Quindi, chiudendo il cerchio, la Siali, il Milan non vi ha rubato la partita, ve l'ha inculata furbamente. Punto. E nel calcio ci sta. Perché chi dorme, chi dorme, se lo piglia in culo. Chi dorme, se lo piglia in culo. E voi ve lo siete pigliati in culo. Poi dopo, che Di Bello abbia fatto un tipo di arbitraggio scandaloso, sono d'accordo. Perché anche l'ultima espulsione di Genduzi, se sei un po' furbo, lo ammonici, chiudi il discorso, è finita la partita. Invece gliel'hai cacciato fuori, così gli manca anche la prossima domenica. Ripeto, ripeto, io lo dico da tempo, che abbiamo gli arbitri scarsi, la gestione degli arbitri è palesamente scarsa, e Alvar idem. Però, quando succede all'Inter, c'è la marotta lì, quando succede agli altri, è colpa dell'arbitro. Furbetti, furbettini, iscrizione al canale, lasciate un like, e ditemi la vostra. Ciao ragazzi, e buon sabato.